Prima intervento il generale per forza questo, poi questo posso prima questo posso accendere la testa questa è l'emergenza se succede qualcosa si stessa prendi un adesso dovrebbe mettere qui se vede dovrebbe mettere il testo guardo lentamente guardo lentamente guardo lentamente questo è un sensor no, no, no quando si apre lo mettere quando si apre lo mettere si adesso naturalmente l'emergenza è stata calda e dopo l'era scusa qua lo rifai un'altra volta lo ricucci dentro è importante è che si vede che adesso guardo quel perno qual'è il perno? aspetta adesso guardi adesso vedete 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 adesso vedete 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 video vedete Grazie per la visione!